Ciao amici e bentornati al canale di GenialMotor.it. Ce l'avete chiesto in tanti, abbiamo già visto la versione nera per il KTM Super Adventure e oggi vi presento l'Arov Sonora in titanio per la BMW R1250 GS e GS Adventure. Partiamo dalle caratteristiche principali. Il corpo esterno è completamente in titanio, compreso il tubo di raccordo, mentre il materiale interno è acciaio inox come altri prodotti di casa Arov. Il fondello è completamente in fibra di carbonio. Completa la dotazione, e li vedete qui appoggiati sulla scrivania, un paracalore in carbonio e tutto il kit minuteria con un simpatico adesivo con il logo Arov appena rinnovato. Così come la versione black che vi abbiamo già presentato, questo articolo è omologato sia per le versioni Euro 4 sia per le versioni Euro 5. Qui sul lato posteriore, poi lo vedremo nel particolare, c'è il numero di omologazione inciso a laser, così come inciso a laser è anche il logo Arov, che dà questa finitura veramente molto caratteristica e anche molto di pregio. Il DB Killer, allo stesso modo della versione nera, e lo vedremo anche questo nel particolare, ha un dado Allen per essere rimosso. Vi ricordiamo che una volta rimosso il DB Killer dal silenziatore, lo scarico non viene più considerato omologato secondo la normativa Euro 5 e soprattutto lo scarico diventa veramente molto molto rumoroso. Come è ben chiaro dalle foto che stanno scorrendo alle mie spalle e che adesso vi faremo vedere nello specifico, l'articolo è compatibile sia con la R1250 Standard sia con la R1250 Adventure. Questo che cosa vuol dire? Che potete installare lo scarico sia con la moto stock senza alcun accessorio, sia con la versione comprensiva di valigie originali BMW. Infatti, l'installazione non va ad intaccare nessuno dei componenti che vengono dati di serie sulla GS Adventure. L'installazione è, come tanti altri prodotti di casa Arov, estremamente semplice. Basta rimuovere il silenziatore originale e installare quello Arov con la minuteria in dotazione usando la fascetta stringitubo standard. Con l'installazione del silenziatore non andiamo a rimuovere il catalizzatore che è installato nei collettori, però Arov ci mette a disposizione due modelli di collettore completamente decatalizzato, uno in acciaio inox e uno in titanio che ovviamente possiamo ordinare separatamente. Potete trovare questa nuova uscita sul nostro sito www.genialmotor.it La spedizione è disponibile in tutta Italia e in tutta Europa con consegna in 24-48 ore. Benissimo, non c'è altro da aggiungere, prima di darvi la rivederci volevo ricordarvi di mettere mi piace a questo video, sottoscrivere il nostro canale e ovviamente commentate se volete una recensione in particolare, volete che descriviamo qualche articolo o avete dei suggerimenti, sono sempre i benvenuti. Alla prossimo video con genialmotor.it e buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.